Aprirà subito la press unit all'ospedale Vittorio Emanuele. L'appello lanciato in questi giorni da Cantiere Gela ha raccolto numerosi consensi e domattina dalle 8 dinanzi al presidio ospedaliero di Via Palazzi si darà una raccolta di firme tutti insieme per invocare l'apertura delle unità di sernologia complessa messa a rischio per la mancanza di fondi regionali. Non ci sono soldi per coprire le spese per la sua realizzazione. Io mi auguro che sia le donne che gli uomini parteciperanno numerosi perché è una petizione che a cautela e a tutela della salute di questo territorio. Ho il piacere che verranno anche gente dei paesi limitrofi proprio perché sentono questo tipo di problema, è un problema anche loro. Noi abbiamo voluto fare subito la raccolta firme e sensibilizzare quindi il manager dell'ASP proprio perché riteniamo che non c'è un problema di soldi. Già noi abbiamo un reparto che funziona da tanti anni, che produce ottimi risultati e con un'associazione di volontariato, l'ADOS, che lavora lagremente perché le donne siano trattate in una maniera adeguata. Questo reparto peraltro ha una partnership con l'IEO, quindi con la struttura di Veronesi per cui molta gente della Sicilia, del Meridione e d'Italia viene qui a Gela non perché piace Gela ai forestieri ma perché da Milano dicono che a Gela si può benissimo essere trattati come a Milano. Noi vogliamo fare in modo che diventi una struttura di senologia complessa con poche risorse ma umanizzando ancora di più i rapporti e fornendola di alcune figure specialistiche che possono integrare già l'ottimo lavoro che viene fatto dal dottore Di Martino e dall'ADOS. È stata avviata anche una petizione online. Mi auguro che anche tutti coloro i quali non possono essere presenti domani o nei giorni successivi possano farlo tramite internet. All'iniziativa di domani parteciperà tra gli altri anche l'ADOS. Le associazioni di volontariato stanno facendo sinergia, si stanno mettendo insieme per rivendicare i diritti, i diritti della gente che vive in questa città per rivendicare i diritti della gente che comunque vive in un territorio che sta cercando di recuperare il terreno perduto nei confronti delle altre realtà. La Breast Unit deve restare aperta, la Breast Unit è un reparto di eccellenza che deve continuare a essere al servizio della città e al servizio del malato. Ma se è un diritto perché bisogna lottare tanto? Perché? Perché viviamo purtroppo in una società in cui la gente per bene deve rivendicare i propri diritti, deve comunque elemosinare a volte ciò che gli è dovuto.